Parti, vediamo la classifica, la classifica finale di questa prima puntata della nona edizione, quindi la somma dei voti dei nostri giurati con i cinque voti che hanno dato i protagonisti. Vediamo. Classifica. Dodicesimo posto per Francesco Pannofino, Barry White, 20 punti. Undicesimo posto. Ex-Equo, Sara Facciolini e Eva Grimaldi, 22 punti, Baby Kay e Amanda Lear. Nono posto. Per Flora Canto, 29 punti, la sua Cristina D'Avena. Ottavo posto. David Pretelli, 31 punti, Nino Ferrer. Settimo. Davide De Marinis, 39 punti, Gianni Morandi. Sesto posto. Tiziana Rivale, King Cars, 40 punti. Quinto. Gigi Ross, Irigheira, 42 punti. Quarto posto. Per Francesco Monte, Mahmoud, 43. Terzo posto, vediamo il podio. Allora, vuol dire che c'è un ex-Equo al secondo posto. Jessica Morlacchi e Agostino Penna, 46 e con 58 punti, vince Lidia Schillacci. Lady Gaga, prendi il microfono. Andando di appuntamento alla prossima settimana, signiamo con Lady Gaga e con la canzone Shallow che ha vinto, oltre all'Oscar, anche questa nostra prima puntata. Brava, brava. Vai, buonanotte. Grazie. 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 Buonanotte a tutti. The star is born. Buonanotte.